Ma è impazzita? Come si permette di scrivermi una cosa del genere? Ora ti faccio vedere io. Fermi tutti. L'altra notte pensavo, mentre dormivo in sogno, ma le persone come mi vedono a primo impatto? Nob, simpatica, antipatica, brutta, acida? Non lo so, però so semplicemente che anche se non dormo, per qualsiasi cosa io faccia, nella mia testa scatta quella domanda. Piacerò così? Mi guarderà mai come prima? Sto facendo la cosa giusta? Scusate, ma la cosa giusta... Per chi? Sto vivendo la mia vita pensando a cosa sarà giusto o sbagliato per gli altri. Senza pensare a se questa cosa rende felice me. Questa cosa mi rende felice. In realtà non lo so. Non so cos'è la felicità. Per caso è quando sei con un tuo amico? O quando guardi film divertenti di Sianio in cui ti dice... Oh, è riro un po' Non piacere. È tutto a posto. O altrimenti quando ti vedi carine e fai TikTok. Oppure quando sei in un prato e disteso sotto il sole. O quando porti a spasso il cane. Boh, tutti dicono che la felicità è un'emozione inspiegabile a parole. Una sensazione unica. Rara. Poi vai a vedere nessuno è mai contento. Ma quindi in realtà... Che cos'è la felicità? Dice Google che è una condizione mutevole, momentaneamente più o meno lunga, che può variare a seconda. Sto pazziando. Io non so cosa sia la felicità. Però quando la nomino suona bene. Insomma, non c'è tempo, Patrice Titz. Perché la vita... È bella. Non c'è tempo, Patrice Titz.